Un'occasione importante per noi per far conoscere i nostri corsi, il nostro ambiente, il nostro mondo a tanti giovani che dovranno poi fare una scelta e questa scelta noi speriamo il più possibile sia una scelta votata ad andare all'università in generale. Poi ovviamente ci fa piacere che arriveranno da noi ma l'importante è non lasciare il percorso degli studi al diploma. Da noi avranno sicuramente l'opportunità di incontrare un'offerta molto molto ampia internazionale con la possibilità di scambi internazionali, di girare, avranno l'opportunità di viaggiare non soltanto fisicamente ma anche viaggiare con i sogni per pensare a un futuro molto importante, molto grande. Questo è il nostro impegno per loro e questo è quello che faremo.